Avellino vince di squadra ed arresta la corsa di una temibile Torino. I bianco-verdi tornano a far vedere quanto di buono visto in precampionato. Gruppo unito ed ognuno dei ragazzi di Sagripanti sa essere a suo modo produttivo. Il successo è importante perché arriva con una diretta concorrente e permette agli Irpini, da oggi nuovamente in palestra, di preparare al meglio la trasferta europea contro il Nanterre. La difesa ha fatto la differenza. Nella prova a metà campo contro Torino i Lupi sono stati eccellenti. Avellino ha difeso in maniera superba nel secondo tempo, subendo appena 26 punti. Oltre a proteggere la propria metà campo con vigore, gli Irpini hanno vinto una lotta al rimbalzo sul classando 38-23, la più fisica ed attrae di Catorino. Dez Wells, cresciuto nel corso della partita, ha conquistato 9 rimbalzi, 7 quelli di uno scrub o tutto fare, su entrambe le metà campo. Tutti si sono fatti trovare pronti. I lunghi stanno crescendo, Fesenco è sempre altalenante, ma la sua prova è oscurata dall'eccellente indiaie. Il senegalese ha chiuso tutti gli spazi nel pitturato ed è quello che deve fare. Avellino è questa, quello di Brescia è probabilmente soltanto un episodio. Ma adesso è di nuovo tempo d'Europa. Domani si vuole in Francia. Mercoledì c'è il Nanterre.